Guarda, sono qua vicino, sono quello del palazzo accanto, andiamo a cammazzare Forse sono sopra Abbiamo perso l'obiettivo Delta Sì, sono qua, sono qua Uno l'ha mortato Preso Cazzo C'è un soldato nemico Ma che c'è imbattito Oh, madonna Hai visto saltare in aria? Sì Oh, merdo Vedo un carro, attenzione La seguo Cazzo questa è modegrappa Andiamo a fare il carro con me Eh? Stai a seguire il sidecar, dottore Che sogno Con il fucile da cecchino Ahahah 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 Maronne Oh, una posta Andiamo a letto, per raccogliere le castagne Dove sta andando, dottore? Dove sta andando, dottore? In che vada? Il disegnere? Qual'è il problema? Andiamo con quest'anno l'obiettivo alto Mi sa vomitare Alla zona, alla zona Dove vai, raccogli la lancia, dottore? Ahahah Madone, che era Ma ce l'ho fatto, me ne faccio Ahahah Torna nella zona di combattimento Proprio al limite C'è uno lì Dove? Medico, a destra B, vicino al punto B Ah C'è un altro lì C'è un altro lì C'è un altro lì E' un altro lì Cazzo no Ahahah Mi ho coltellato le ginocchia Mi ho coltellato le ginocchia Ma ha sparato, mi ha sparato, mi ha sparato E' sotto nelle scale, alla base delle scale Ammazzato E' da' un altro lì E' da' un altro lì Ahahahahah Ooh Uh, slos un car E' bani Ahahahah Ahahahahah Ahahahah 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 Da' buzi putu c'è uno a nord est della prima tacca preso un bravo c'è un altro più in basso sta correndo ah guarda non va riguardo preso un altro altri due preso quello sotto ok però dovrebbe preso quello su bravo che cazzo è questo che cosa che fa a rally vabbè sarà sbagliato pensava di essere su colino non andiamo alla batteria abbiamo perso l'obiettivo abbiamo perso l'obiettivo vedi andiamo con me presto bella bellissima sei eh uno me lo so il fatto lanciarazzi 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 mi hanno sparato con lanciarazzi mi hanno preso l'obiettivo 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 ma ci vuole un posto fisso no un pochino cazzo pagione cazzo 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 la casa a ovest a ovest a ovest I got it quale quella la? si è morta amore uuuh ti ho sparato e mi ha ammazzato ma chi che mi ha ammazzato? aaaah non ha mai avanti coltello e cinquanta sei cazzo di stelle di servizio bastardo bastardo non è un cincione con le gambelle americane non è non è tutto il giorno riflessa io voglio capire una cosa io voglio capire una cosa cioè questo mi ha visto cinque cazzo di millisecondi come cazzo ha fatto a mirarmi spararmi e ammazzarmi io ero inginottato per una cristo di roccia in cinque millisecondi che non è ma proprio è proprio contro ogni ogni cazzo di legge contro la biologia proprio perché va contro le reazioni di mare la velocità delle reazioni di mare è contro la biologia ma questo che ammazzarmi io ho visto di secondi non ce l'ho fatto fuori prima vedo un altro è un altro pedone a nord-est proprio a nord ok è esploso ahahahahahahahah che perfetto ecco Grazie a tutti.